Dovranno essere modalità serrate, nel senso che noi non possiamo vanificare gli sforzi fino ad ora portati avanti da tutti gli italiani. C'è necessità che i controlli vengano fatti in maniera capillare in tutti i settori, ad iniziare dai ristoranti ai locali di pubblico spettacolo, le piscine e anche, devo dire, sarà un impegno notevole per quanto riguarda il trasporto locale. Con l'arrivo del Super Green Pass temete nuove violenze in piazza? Ho emanato una direttiva il 10 di novembre, proprio per regolamentare lo svolgimento delle manifestazioni, perché io penso che ci sia l'esigenza del contemperamento dei diritti anche a manifestare, ma è assolutamente importante anche considerare il diritto alla salute, che in questo momento è prioritario, e così il diritto alla mobilità dei cittadini, allo studio. Sono cittadini che hanno osservato le regole ed sarebbe ingiusto se un atteggiamento non proprio corretto degli altri mettesse a rischio tutto quello che noi abbiamo fatto fino ad ora.